Si avvicina la riapertura delle scuole, prevista per mercoledì 11 settembre, e incombe la chiusura del ponte Chieppara, arteria strategica per l'accesso in città dalla zona sud del territorio comunale e dai paesi del Delta. Da qualche giorno si è diffusa la voce che il ponte potrebbe restare chiuso, costringendo pertanto scuolabus e corriere a inoltrarsi per le strade del centro. Da Palazzo Tassoni tutto tace, né conferme né smentite. Il consigliere comunale delegato alla viabilità Enrico Bonato fa sapere che domani sarà in regione per incontrare gli addetti di sistemi territoriali, la società che gestisce la manutenzione delle infrastrutture sul Canal Bianco. Sulla questione interviene il capogruppo della Lega Paolo Baruffaldi, oltretutto esperto in materia per ragioni professionali. «Credo ci siano tutte le condizioni affinché il ponte possa essere aperto con il senso unico alternato», spiega Baruffaldi. «Non sono a conoscenza diretta della situazione attuale, tuttavia presumo che il termine dei lavori slitterà perché, lo dico per esperienza personale, come spesso succede in questi casi, si trovano situazioni più gravi del previsto, oltretutto l'infrastruttura in oggetto è in ferro e si trova sopra l'acqua, quindi non voglio pensare quale situazione avranno trovato». A questo punto l'esponente del Carroccio lancia una proposta alla delegazione comunale che domani andrà in regione. «Mi sento di proporre al sindaco o a chi lo rappresenta, spiega, di chiedere la riapertura del ponte a senso unico alternato a partire da lunedì prossimo, quindi qualche giorno prima della riapertura delle scuole. Però il comune deve farsi carico di garantire la sicurezza. Non abbiamo dimenticato che il senso unico alternato è stato tolto per motivi di sicurezza. Sul ponte transitavano mezzi che non dovevano transitare, i veicoli andavano a una velocità ben oltre quella consentita, non tutti rispettavano il semaforo. Tutto questo metteva a rischio la sicurezza dei lavoratori. Ecco perché il comune deve mettere in campo le forze necessarie affinché l'impresa possa lavorare in serenità e nello stesso tempo non vengano ulteriormente penalizzati i cittadini e le attività commerciali e produttive di qua e di là dal ponte».